Nello spirito di serenità con cui abbiamo cominciato questo nostro Consiglio Comunale oggi vorrei tornare alla fredda legge dei numeri in modo da stemperare anche una dialettica che piano piano si accende certo anche per sostenere le tesi che sosteniamo come opposizione, signor Presidente, questo è ovvio ma mi rifaccio a dei dati che però non sono confutabili o perlomeno sono dei dati che provengono da una fonte terza perché sono i dati della relazione che ci viene rimessa naturalmente dell'organo di revisione e in particolare mi soffermerò sulle pagine che vanno da 12 a 32, 33 che mi sembrano quelle centrali per l'analisi che parzialmente è stata fatta anche dal Consigliere Garboni ma io vorrei usare un tono più piano, nello stesso tempo spero di non annoiare però credo di cercare di accendere un riflettore su problemi che gli stessi devisori individuano Cominciamo dalla gestione dei residui a pagina 12 si parla di minori residui attivi riaccertati per quasi 5 milioni di euro esattamente 4 milioni 928 ora la problematica dei minori residui attivi riaccertati, signor Presidente, signor Assessore la conosciamo è una problematica che ciclicamente viene riportata all'attenzione di questo Consiglio Comunale con scelte che l'amministrazione fa ma che dovrebbero essere, io credo, signor Assessore se vuole, da questo punto di vista, doviziosamente illustrate perché la sua illustrazione iniziale è condivisibile, è una illustrazione anche piuttosto completa ma il nodo della nostra discussione, come sempre, verte sui residui attivi e passivi problema su cui si regge l'architrave del bilancio comunale, questo lo sappiamo entrambi credo lo sappiamo tutti in quest'anno ora, se leggiamo di 4 milioni 928 mila euro errotti di residui attivi riaccertati dovremo sapere perché questo avviene e nello stesso tempo abbiamo minori residui passivi riaccertati di 1 milione 128 e anche qui, se non altro, beneficio, diciamo così, non tanto dell'ente, perché queste sono spese che l'ente in questo caso non fa più, ma anche per conoscenza dei consiglieri comunali credo che sia importante capire a cosa si riferisca a questo 1 milione 128 se poi, come ha detto Carboni, andiamo a guardare l'analisi del conto del bilancio e quindi il trend storico della gestione di competenza ci rendiamo conto, e qui ha perfettamente ragione Carboni del forte incremento delle entrate tributarie e del decremento molto forte delle entrate da contributi e trasferimenti corretti questo è un dato, diciamo così, noto è un dato che conosciamo fa parte delle scelte della politica nazionale in rapporto agli enti locali tuttavia, naturalmente, è un dato estremamente incidente come incidente in prospettiva a quello che riguarderà le entrate tributarie se certe scelte che riguardano l'impusivo e il futuro è anche significativo il decremento delle entrate extra tributarie da 9.920.000 del 2010 a solo 6.690.000 del 2012 aumentano le entrate per prestiti che non c'erano nel 2010 e nel 2011 per l'uno non le trovo in questo specchio e diminuiscono un po' le entrate di servizi da servizi per conto terzi insomma, da un totale entrate di 44.735.000 del 2010 scendiamo a 32.000.000 nel 2011 risaliamo a 42.000.000 nel 2012 abbiamo spese correnti tendenzialmente invece in leggera crescita rispetto al 2011 questo è un dato che io trovo sorprendente signor Sindaco, signor Assessore avrei pensato e noi abbiamo più volte chiamato l'attenzione sulla spesa corrente da parte del Comune capisco che si tratta di un bilancio informato dei principi, diciamo così, keynesiani tuttavia ritengo che sulle spese correnti abbiamo anche chiesto la costituzione di una commissione ad occhio sulla spesa corrente non ne va a passare nessuno ma è a porre l'accento su questo tema e invece vediamo una leggera crescita delle spese correnti naturalmente hanno anche evidentemente i loro benefici mentre vediamo con preoccupazione una leggera decrescita delle spese in conto capitale tuttavia salite rispetto al 2011 andiamo a vedere le principali imposte dell'entrata in tributaria abbiamo entrato un gettito IMU che è veramente molto importante nel rendiconto 2012 si parla di 13.344.000 sappiamo i problemi per la finanza locale rispetto al tema dell'IMU in prospettiva abbiamo liquidazioni per accertamenti pregressi su lici di 6.250.000 ma poi c'è un caveat dei revisori a cui farò riferimento fra poco abbiamo una salita dell'addizionale IRPEF mi pare che l'altro elemento diciamo sia la crescita della tassa sui rifiuti soldi urbani dal punto di vista delle entrate e questo caveat che a fine pagina 15 già ci danno i revisori dicendo ma era un fatto di cui abbiamo discusso anche negli scorsi consigli comunali si ricorda assessore quando abbiamo presentato una interrogazione sulla manovra chiamiamola così sulla manovra di recupero di poste I CITARSU e credo queste siano le principali poste che l'amministrazione sta svolgendo guardi assessore questo carbone non mi parla mi ha detto sul recupero I CITARSU avevo ragione e lei è stato onesto devo dire nel rispondermi inizialmente manifestando qualche perplessità ma il dato è addirittura sotto le aspettative colleghi io vi prego di fare attenzione a questo punto i revisori ci dicono che il recupero evidenzia appena il 5.6% di incassato capite che questi sono dati che oggettivamente non giocano a favore della tesi di un rendiconto brillante ora ci saranno motivazioni che riguardano l'avvio di questa manovra la possibilità di perseguirla la capacità degli uffici a soggetti preposti terzi di portarla avanti dal punto di vista proprio quantitativo per la disponibilità degli uffici il tempo eccetera eccetera gli accettamenti che debbono essere fatti però sono dati estremamente non occupati cioè se si parla di manovre io se non ricordo male la sessione mi corregga se sbaglio parlavamo di una manovra di recupero dell'evasione io non vorrei dire una castanaderia mi corregga di circa 10 milioni di euro se queste sono le percentuali che stiamo parlando tassa sulla raccolta per i fiuti solidi urbani anche qui caveat dei sindaci quindi guardate che cioè stanno dando i sindaci momenti di attenzione di preoccupazione supposte essenziali per il recupero di queste partite in riferimento al recupero di tale l'entrata tenebutaria mi riferisco a pagina 16 tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani della relazione dei sindaci il collegio evidenzia che i risultati relativi all'attività di gestione di recupero coattivo nonché del recupero del saldo pregresso evidenzia non esigua riscossione del credito suddetto tale recupero evidenzia infatti che appena il 14.24 risulta incassato scusate io credo che questi siano dati oggettivamente seri e preoccupanti e penso dell'assessore Mastrofatti io capisca bene sgombro il tavolo immediatamente dal fatto che vi sia l'ostilità preconcette penso personalmente che stia anche facendo un lavoro dal punto di vista della dedizione e dell'attenzione sicuramente commendevole però questi sono i dati a nostra disposizione il collegio dei sindaci a pagina 17 ci ricorda quello che è ovvio che noi dovremmo sapere ma fa bene ricordarcelo ripetita Iubat sulla base dei dati esposti il collegio evidenzia come il trasferimento di un centro minorgettico di fondi dallo Stato centrale o dei lente a monitorare e sviluppare l'attività di incasso delle entrate propria a tale proposito si sollecitano tutte le azioni di recupero che si intedessero idonee ma voi vi rendete conto che se queste azioni di recupero sono così faticose hanno posso dire una miccia così corta apparentemente del romano suscitano malcontento nella città perché poi sono massicce e diciamoci anche la verità improvvise perché evidentemente queste poste sono state messi in recupero come giustamente doveva essere fatto ma in un'azione complessiva che è avvenuta adesso mi pare beh io credo che ci sia una fase di contingenza economica non semplice per tutti anche per i cittadini frascati ci possono essere per conseguenze certamente non piacevolissime mi vorrei soffermare su qualche dato interessante ulteriore sulle trade extra tributarie perché i proventi diversi sono in così forte decrescita rispetto al rendiconto 2011 nel rendiconto 2012 abbiamo 261.646.000 euro meno 230.000 euro rispetto al 1.191.000 qui mi piacerebbe capire perché e i sindaci ci dicono si rileva la necessità da parte dell'ente di provvedere una migliore gestione del patrimonio comunale perseguendo un'attività di incasso dei canoni di locazione attivi probabilmente questo potrebbe essere riferito anche ai proventi dei beni dell'ente tuttavia o ai proventi diversi qualcuno non lo chiedirà tuttavia credo che la constatazione non sia priva di senso sia una constatazione che fra l'altro riguardando il patrimonio comunale pone a nostra attenzione anche l'effetto sociale di un'accelerazione di questo recupero credo che siano argomenti che il consigliere Bosa il consigliere Consigli di San il consigliere Filipponi per la loro sensibilità su questi temi possono interessare nei servizi a domande individuali abbiamo dei veri e propri esempi qui un po' carcomi a gioco mi dispiace che manchi il sindaco di Tommaso ma su questo l'assessore non è lei che può dare la risposta per tutto il rispetto per la sua azione poi bisogna fare una scelta di fondo una scelta politica che Bosa non ha voluto fare e di Tommaso non vuole fare in stretta continuità lei l'altra volta sindaco ha criticato ex sindaco ha criticato il sindaco di Tommaso dal suo punto di vista non voglio ritornare su quel viso avverto però una continuità nella vostra azione una continuità dal mio punto di vista negativa noi abbiamo musei gallerie e mostre con proventi pari a 15.974 euro e costi pari a 257.846 euro siamo nel 2012 assessore Mastrosanti glielo dica lei spieghi al sindaco di Tommaso spieghi alla sua maggioranza mi scusi torno un po' arrogante però c'è bisogno di spiegare che questo tipo di ricaduta sociale questo intangibile rappresentato dalla cultura cosa buona e giusta e fondamentale valore costituzionalmente tutelato tuttavia non è più sostenibile le tasche della comune di Frascati non possono sostenere proventi pari a 15.000 euro e costi pari a 257.000 euro per far costo per quale tipo di ricaduta sociale misurabile misurabile accertata e generata ma quante volte abbiamo veduto perché questo è l'ultimo rendi conto vero Anna Maria è l'ultimo giro di Boa le possibilità di Correntino sono già a mio avviso onestamente terminate quindi è solo una ripetizione così ormai di da scalica delle nostre tesi rappresentate sommessamente eppure non si è voluto capire ecco la continuità fra cose di Dommaso quella continuità che noi giudiamo politicamente sbagliata quella continuità che non ha saputo portare a frascati i soldi in entrata sulla cultura i proventi sulla cultura assessore Mastro Santi glielo spieghi perché sono un po' distratti su questo se avessero portato i proventi io avrei veramente in maniera anche genuina alzato le mani e riconosciuto la superiorità dell'avversario perché il consigliere Posa ha anche trascorsi professionali nel mondo della cultura sa e dovrebbe sapere ma credo sa che è benissimo che dal punto di vista del privato vi è un investimento vi è una sponsorizzazione vi è comunque sempre una ricaduta ma a fronte di proventi di questo genere che tipo di servizio offriamo perché questo servizio genera questi proventi così bassi è veramente poco attrattivo o c'è poca richiesta grazie a tutti grazie a tutti